Bergamo Azzurra Bergamo Azzurra partecipa e sostiene questa splendida e onorevole iniziativa. Questo è a sostegno della nostra amata Napoli e dei cittadini in difficoltà che ne hanno più bisogno. Promossa dalla Fondazione Cristiano Tosi e sostenuta dai club Napoli di tutto il mondo e non solo. Dopo esserci impegnanti nella Bergamasca, riteniamo importante anche impegnarci per questa iniziativa. Waiu, aiutiamo Napoli, facciamo ambrezzi. Waiu, aiutiamo Napoli, facciamo ambrezzi. Waiu, aiutiamo Napoli, facciamo ambrezzi. Waiu, aiutiamo Napoli e facciamo ambrezzi.